La ipofosfatasia è una condizione clinica in cui non vi è nell'adulto un segno peculiare. È un corteo sintomatologico, sicuramente dobbiamo fare attenzione a alcune caratteristiche, come una storia di fratture, soprattutto metatarsali nell'adulto, una storia di fratture a tipi di femore, di parodontopatia, che possono essere delle spie che ci permettono di pensare alla possibilità di una situazione di bassa fosfatase alcalina. Naturalmente non è una patologia frequente, forse perché il clinico spesso dà molta importanza a un incremento della fosfatase alcalina e poco si guarda ai bassi valori. Dovremmo fare più attenzione proprio perché questo potrà avere delle repercussioni in termini di trattamento del paziente che usufrirà di un trattamento idoneo se adeguatamente diagnosticato.